ci sono scarpe che possono essere utilizzate in diverse condizioni e questa topo athletics st4 ne rappresenta l'essenza perché è in effetti una scarpa che può essere utilizzata per la corsa naturale ma al tempo stesso anche per correre in pista davvero molto velocemente ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di 196 grammi drop 0 16 mm nel tallone 16 mm nell'avampiede il mio amico prodepodista vorrebbe utilizzarla alle gare ma in realtà non è una scarpa omologata per il natural running abbiamo apprezzato la calzata fasciante nell'avampiede uno spazio importante al tempo stesso un tallone davvero morbido e praticamente inesistente ma che rende il tendine d'achille particolarmente coccolato un sistema di laccio una linguetta parecchio paffute che consentono nuovamente sensazioni positive per il collo del piede un'intersuola minimalista doppia densità zip foam nella parte superiore un po più morbida nella parte inferiore è un po più dura che consente ottime sensazioni di chi volesse un contatto al terreno ma al tempo stesso consente pure di correre davvero velocemente a completare poi la sensazione di morbidezza poi c'è la solita soletta orto light che vi consente in effetti una sorta di cuscino anche se ovviamente i 16 mm di altezza dal suolo non consentono di avere una sensazione equivalente a quella invece di altre scarpe però per chi ama il natural running questa scarpa potrebbe sicuramente essere adatta anche grazie al fatto che è davvero molto flessibile vi consente di gestire al meglio gli esercizi di tecnica di corsa come al solito c'è il solito battistrada in casa topo che secondo me è molto efficace a condizione di non essere utilizzato su pista bianca secondo me questa scarpa è davvero adatta a tutti coloro i quali volessero cercare il natural running o anche e questo sarà lo spin che ci racconterà andrea nella seconda parte per tutti coloro i quali volessero correre le brevi distanze molto velocemente senza davvero farsi spingere dalla fibra di carbonio voi come al solito stay strong keep running iscrivetevi al canale sarebbe davvero molto piacevole ma anche gustoso io come al solito vado a avermi un coffee ciao andrea siamo finalmente giunti tra l'altro sotto la pioggia la recensione delle topo st 4 ce la siamo persa nel nei mesi scorsi cosa ne pensi di questa scarpa ce la siamo persa sì assolutamente per di più l'avevamo usata tardissimi cioè tantissimo tempo fa perché mi ricordo che avevo fatto delle salite per provarla e poi poco altro perché la utilizzeremo di più questa quest'estate e quest'estate questa primavera inoltrata barra estate nelle gare curte secondo te andrea chi adatta questa scarpa una scarpa adatta ad atleti leggeri ad atleti che sanno correre di avampiede che che spingono forte diciamo e invece a livello di ritmo a che ritmi la consiglieresti è davvero molto leggera di conseguenza potrebbe in effetti consentirti di correre velocemente cosa ne pensi sto pensato che siano due rimbambiti piove sia qua sotto a prenderci l'acqua no è una scarpa secondo me assolutamente da usare sotto i 4 km invece a livello di distanze fino a che distanze le utilizzeresti direi o gare spurie ma sempre sotto i 10 km o secondo o van benissimo per le 5 km io andrea mi fermerei un secondo ti faccio mettere lì sotto e facciamo la seconda parte stavo pensando che se incrociamo bene te ti metti di là sotto a là e io sotto di qua direi che così non sembrano due idioti ripartiamo tra due minuti ci siamo spostati nel punto strategico invece andrea per quali distanze le utilizzeresti no stavo dicendo prima secondo me vanno benissimo per le gare quelle di paese nelle partenza unica ma sotto i 10 km adesso arriva il periodo giusto sto pensando quelle gare 7 8 km massimo anche 9 10 ma per assurdo anche 12 km l'importante che non siano omologate dove non mi do non devo avere l'assillo del tempo e correre per divertirmi però la verità è che comunque sulle gare da 5 km secondo me è bomba mi dicevi a livello di peso del podista amatore fino a che peso le consiglieresti e qual è secondo te il limite massimo secondo me se pesi sotto i 70 kg è meglio e comunque devi essere un atleta prestante mi sta venendo un flash clamoroso quant'è che è di tallone sta scarpa perché sennò potrebbe essere utilizzata per le gare in pista sai dal tuo punto di vista in effetti secondo me potrebbe essere utilizzata bisogna metterò sopra in sovraimpressione se la scarpa è omologata non credo comunque secondo te ti consente questa scarpa di spingere davvero velocemente grazie all'intersuola molto interessante zip foam l'intersuola ce n'è relativamente poca devo dire che l'idea di questa scarpa è scarpa leggera e scarpa che spinge quindi leggerezza ai piedi e un po di intersuola che comunque aiuta a livello di tomaia come l'hai vista c'è un grande spazio nell'avampiede cosa ne pensi sì c'è un grande spazio nell'avampiede come come solito in casa topo però dopo che la leghi bene ai piedi al piede il collo del piede rimane bello bloccato e quindi super guarda qua il tallone l'avevamo già fatto vedere praticamente inesistente e niente secondo me top come scarpa da gara o da ripetute brevi secondo me sono anche ottime per fare gli esercizi di tecnica di corso invece a livello di intersuola parlavi dello parlavamo dello zip foam come l'hai vista la ritieni reattiva oppure più protettiva ma è una scarpa diciamo così vecchio stampo è sicuramente reattiva ma ti ripeto reattiva soprattutto grazie a questa questo avampiede molto ampio che da che mi fa correre forte a livello di stabilità come l'hai vista e chiaramente l'hai utilizzata soltanto per correre forte cosa ne pensi ma intanto una scarpa per correre forte una scarpa per correre da freschi quindi già il piede non cede di per sé in più come si dice la zona di appoggio è davvero ampia ed è una scarpa molto bassa quindi per cui lo spazio per pronare davvero poco a livello di battistrada invece come l'hai vista stiamo sempre parlando del battistrada abbastanza classico di topo cosa ne pensi si abbastanza classico credo che sia proprio identico alle altre direi che è buonissimo ovunque un po meno su pista bianca però correndo in pista non l'hai sentito particolarmente cedevole no 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 assolutamente va via bene infatti davvero bisogna controllare quella cosa per di più bisogna vedere se le se le altezze più che altro sono sono dentro no perché su world athletics in effetti potrebbe essere che non l'abbiano omologata perché non non ha fatto richiesta topo adesso c'è un giro un po strano bisognerebbe capirla sta cosa a livello di calzata suggerisci stesso numero o mezzo numero in più o in meno ma no no direi che che va benissimo così ti ripeto quando la leghi è bella stretta e lo spazio in avampiede c'è comunque dello stesso numero va benissimo e secondo te quali sono i pregi e difetti di questa st4 ma il pregio è che in casa topo mancava la scarpa racing hanno fatto una scarpa racing è una scarpa da utilizzare in gare corte dove voglio provare a lavorare di avampiede e quindi sentirmi un campioncino che è gnota se devo dire qualche difetto un po la tua maglia da scarpa da lento invece che racing ci hanno abituato altre marche con tua maglia molto più spinte e niente che va bene il mondo di oggi dove dove mettono delle mescola tanta mescola morbida qua c'è poca mescola e durettina è un ritorno al passato diciamo che ripeto a qualcuno potrebbe far piacere a qualcuno magari ormai non più abituato potrebbe passarci il naso tra l'altro qualche giorno fa dicemmo nella recensione delle mani fly 4 dell'uscita di una nuova scarpa oggi si conferma che questa scarpa sarà presto disponibile e si narra che l'intersuola sia completamente migliorata cosa ne pensi che mi hai messo un po di hype e incominciamo a parlare come i veri youtuber vediamo vediamo sono curioso va bene andrea ci conviene ritirarci che qua sta diluviando anche se stiamo abbastanza in tranquillità stay strong keep running ci vediamo alla prossima ciao alla prossima qua finiamo negati mi sa adesso